Ormai da qualche anno l'anniversario della partenza dei volontari valdarnesi per la guerra di liberazione è celebrato con i lavori che gli studenti delle scuole realizzano sul tema della resistenza. È una lezione che da lunni dunque vede i ragazzi divenire storici e ricercatori. L'evento questa mattina al Teatro Masaccio a San Giovanni. C'è la presentazione del lavoro che hanno fatto in classe con gli insegnanti e quindi mi pare un'importante maniera per tramandare la memoria, a fare in modo che non ci sia qualcuno che racconta loro ma che siano loro che attraverso lo studio e l'approfondimento delle tematiche poi fanno un lavoro che poi viene presentato nella giornata di oggi. Mi pare un bel modo per coinvolgere i ragazzi, le scuole, le giovani generazioni. Ed è occasione questa per ricordare anche il recentemente scomparso Gianfranco Amuni. Ci vogliamo rivolgere a giovani, visto che chi ha passato i momenti purtroppo non ce li può spiegare più, non può più partecipare e quindi è giusto dare un segnale alle giovani generazioni. E Amuni era sicuramente un grande rappresentante, oltre ad essere un grande dottore, amato da tutta la cittadinanza, è stato un partigiano, è stato un promotore della sezione ampia, è stato vicepresidente, presidente onorario e aveva un grande attaccamento per questa manifestazione che noi cercheremo sempre di fare nel migliore dei modi come stamani perché mi sembra che ci sia tantissima gente, tanti ragazzi e questo per noi è molto importante.